Signore Gesù Cristo che ti sei fatto uno come noi e ci hai resi fratelli tuoi e figli dell'unico Padre che è il Padre Celeste, tu che hai sofferto per noi per salvarci, ti chiediamo di benedire tutti gli operatori della pace e di benedire questa icone che rappresenta la tua croce e questo strumento che è stato creato per la morte, che sia un segno, come dice Isaia il profeta, un segno di pace, un segno di speranza per tutti quelli che lo vedono e lo usano e pregano. Ti chiediamo di difendere anche i tuoi figlioli, i tuoi confratelli cristiani perseguitati perché si parla di un numero molto più alto di martiri che nei primi secoli della Chiesa e dacci la forza di accettare anche di soffrire sempre e di portare questa croce, di essere i tuoi testimoni avanti a tutto il mondo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.